Benvenuti, oggi vi mostrerò come realizzare una Ribbon Rose, una rosa semplice e di affetto. Colorate la pasta di zucchero di un colore a vostra scelta, in questo caso ho scelto l'arancione. Utilizzatela stendendola e ritagliando successivamente un rettangolo. Ecco fatto. Adesso ripiegate in due il rettangolo e avvolgetelo su se stesso. Mantenetevi morbidi. Stringete la parte sottostante ed ecco fatto. Adesso con del verde creiamo una foglia in maniera molto semplice. Stendiamo. Ritagliamo e successivamente intagliamo per creare delle venature. Ecco fatto. La nostra Ribbon Rose è pronta.